salve a tutti da erba gatta oggi vi presento un gioco jrpg italiano ovvero prodotto effettivamente sviluppato da degli italiani il titolo è doom e destiny di solito questo genere di giochi già è difficile trovarli sottotitolati in italiano pensiamo sviluppati direttamente da un italiano allora si dice che sia davvero divertente che abbia parecchi riferimenti alla cultura degli anni 80 90 iniziamo subito una partita insieme non l'ho mai provato questo gioco lo proviamo oggi insieme nuova partita già la scelta iniziale transollo classico ed estremo fate caso come hanno scritto e se si vede che vogliono già farci divertire dall'inizio che dite andiamo transollo classico estremo idri classico dai così ci godiamo l'esperienza come magari l'hanno pensata di base vediamo che cosa ci offre qualsiasi riferimento a persone o fatti realmente avvenuti è puramente casuale già pongono le mani avanti e fanno bene secondo me puramente casuale fateci caso come vanno a sottolineare la cosa mio signore i preparativi sono stati completati eccellente il flusso canalizzatore alla massima potenza assolutamente mio signore ed i quattro cristalli elementali traboccano di energia questi quattro cristalli che vi ricordano vedete che cosa mi dite nei commenti e vediamo se indovinate questo è già un riferimento ad un altro videogioco jrpg vi do questo aiuto qui meraviglioso manca poco al compimento del mio piano le porte per l'ultramondo stanno per essere spalancate manca solo il sangue di una vergine e poi questo universo sarà mio spero non sia un problema ma temendo il peggio per questo test ieri sera ho organizzato una festona da sballo eh cosa sì grande festa mega galattica sono pure andato con una tipa grande boss pur io cuccato di brutto dammi il 5 no non può essere oh ragazzi vibra eh ha fatto l'esplosione vibra anche il pad e abbiamo anche già beccato un achievement voi non lo vedete perché c'è il mio bel faccione lì in basso ma abbiamo già beccato il nostro primo achievement ehm episode one cellars and lizard fichissimo seratona giochi di ruolo spero di iniziare una nuova campagna di d&d sono gasatissimo ragazzi questi sì che sono riferimenti comunque diciamo anni 90 dai dove dungeons and dragons andava la grande mi ricordo anch'io da ragazzo ci si riuniva insieme agli amici si facevano queste campagne dungeons and dragons bastava un foglio con la scheda del personaggio c'era il dungeon master che organizzava un po' tutta l'avventura con il suo librone dove c'erano tutti i dati rispetto a mostri incontri tutto ciò che si poteva fare in questo gioco e vai si facevano queste partite infinite a dungeons and dragons così detto anche d&d poi gasatissimo io non credo che oggigiorno qualcuno dica ancora fichissimo e gasatissimo datti una calmata nigel benjamin il game master mi ha detto che avrebbe voluto provare qualcosa di diverso qualcosa che non sia il solito d&d cosa? sei sicuro mike? mike? non mike mike cavolo ho passato tutto il pomeriggio a fare la scheda del personaggio per stasera ecco lì la scheda del personaggio a proposito ragazzi vi ricordate gli altri giochi di ruolo che facevamo più di 25-30 anni fa? eh? sì sono vecchio lo so tranquillo johnny si francis ha ragione rilassati johnny è solo un gioco l'ultima volta che ho sentito benjamin mi ha detto la stessa cosa volevo giocare a qualcosa di nuovo forza ragazzi andiamo dentro utilizza l'analogico di sinistra o il d-pad per spostare il tuo ruolo in giro tieni premuto x per camminare e premia per interagire con l'ambiente e confermare ah quindi x dobbiamo premere per camminare ah se no corriamo giustamente la grafica è bella però ragazzi eh premi start in qualsiasi momento per aprire il menu delle opzioni di gioco vuoi salvare? sì salviamo dai a posto così non ci dobbiamo più preoccupare di ricominciare da capo puoi salvare quando ti pare dal menu o dal menu di pausa quindi fallo spesso tanto è gratis beh sono stati onesti almeno non ci fanno pagare un dlc per i salvataggi come fanno oramai alcuni giochi di ruolo giapponesi eh? allora grafica molto carina quella classica leggeri peggio 16 bit i nostri 4 personaggini che corrono dai un po' l'RPG maker macchinuccia giardino vediamo sì vedete si può anche interagire con i vari oggetti un mucchio di proteste dei consumatori ma Benjamin non sembra curarsene ah ecco già dicono che i giocatori si lamentano del gioco l'auto di Niger che onestamente non riconosco che l'auto possa essere entriamo a casa di Niger nessuna risposta chiusa dall'interno quindi inizia già il primo mistero la casa è chiusa nessuno risponde guardiamoci un po' in giro vuoto guarda la stava nascosto là dietro e abbiamo sbloccato un'altra key event e voi sempre non vedete che dice voi non avete trovato nulla ahahahah allora vediamo nel cespuglio no? fa niente a sto punto io provo tutto sono uno di quei giocatori che clicca ovunque andiamo di qua oh c'è una una pala che brilla avete trovato badile perché dovremmo raccogliere questa pala? potrebbe tornare utile sì in un momento di furio omicida bene ok tutti contenti è utile oh 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 qui non c'è niente e a sto punto usciamo da qua vediamo quest'altra macchina ho già intravisto una porta socchiusa mmm eccoci qua siamo entrati e questa è la cantina di Benjamin? beh dove dovrebbe essere? ma è diversa dal solito ragazzi avete visto queste statue di drago? questo posto sembra più pulito ecco questo era diverso dal solito perché è più pulito non perché ci sono delle statue di drago sì hai ragione ragazzi queste statue sono strane è la prima volta che le vedo forse fanno parte dello scenario del nuovo gioco di Benjamin ecco perché ha pulito tutta la stanza stanza sporca che figata oh mamma allora sto notando che tutti gli elementi che hanno questo sbrucichio probabilmente sono elementi in cui possiamo interagire come la pala quindi guardiamoci un po' intorno qui non c'è niente qui non c'è niente quindi andiamo là dove sbrillucci che ci dovrebbe essere qualcosa avete trovato patatine e vai abbiamo le patatine ops che è successo? che cos'è tutta questa roba? la porta è chiusa a chiave ti serve la chiave rossa che strano la porta della tv di Benjamin è bloccata dice che abbiamo bisogno di una chiave rossa capito? la porta dice che hanno bisogno di una chiave rossa questa roba sembra un mucchio di istruzioni per un gioco di ruolo doom e destiny di e di? che noia allora volete che le leggiamo? si ti prego non ci pensare neanche beh si leggiamola ragazzi se non sappiamo neanche come stiamo giocando e che cosa giochiamo sembra un normale gdr si va in giro si raccolgono chiavi si aprono porte forzieri e a quanto pare anche armadi e ripostigli beh ragazzi possiamo aprire tutto si uccidono mostri e con i punti esperienza vinti si sale di livello che sturbo cioè il classico rpg di sempre sembra forte torna alla parte in cui guadagniamo i livelli come funziona? qui dice che quando si guadagna un nuovo livello il giocatore può utilizzare 3 punti per aumentare le 4 abilità principali possenza simpatia grinta e destrezza qualche potere speciale? fammi vedere sì allora si possono trovare e acquistare poteri speciali questi possono essere equipaggiati rimossi quando si vuole tuttavia per equipaggiare un potere è necessario un certo numero di punti potere che si basano su punteggi di caratteristica quindi più alti sono i miei punteggi di caratteristica più punti potere ho maggiore il numero di poteri che posso equipaggiare sì esatto come hai fatto a capirlo subito un punto potere con delle caratteristiche a 15 un altro quando è a 21 poi 28 36 45 e così via sembra facile forte per evitare di toppare come il nostro solito quando giochiamo un gdr dobbiamo decidere quale ruolo ricoprire io sono un mago stregone leader roe fichissimo con tanta simpatia ok e guardate cosa ho trovato qui un potere per la mia classe nijel ha imparato dardo incantato wow che culo che hai ora posso lanciare un missile magico se equipaggio questo potere dai prova ok raga eccoci qui classica schermata del menu quindi già ci dice dobbiamo andare su poteri nigel se non erro eccolo qui dardo incantato potere equipaggiare di nessuno dardo incantato usabile in battaglia su un avversario costa 29 turni a faccia e 25 mp danneggia 40 60 hp speciale di nessuno elemento uno specie di scettro premia per equipaggiare sac equipaggiato infatti adesso vediamo dardo incantato con a fianco la faccetta di nigel un must per ogni incantatore si chiama ok quindi torniamo indietro ah vabbè dice qua premelo due volte è fatto a posto ah così l'abbiamo disoccupaggiato ok usciamo ah a proposito avete visto nel menu c'era scritto lire ci sono i soldi lire che figata io sarò un guerriero con un casino di possenza un casino di possenza ragazzi un guerriero con un casino di possenza io sarò un ninja agile e rapido destrezza sarà il mio secondo nome mike tu sei l'ultimo abbiamo bisogno di un guaritore perché non fai un chierico e vive la libertà di scelta si senza guaritore è quasi impossibile fare un gdr farò il pirata aveva chiesto il chierico cosa sei l'incoglionito non puoi fare il pirata quando io sono un ninja c'è la possibilità che tutta la vita come la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda la velocità della luce ha ragione lui qualunque cosa abbia detto inoltre ci serve il guaritore dai che ne dici di un bel paladino devoto ad un dio potente e vindicativo e se invece fosse un pirata paladino di un dio che è un enorme mostro volante fatto di spaghetti un enorme mostro volante fatto di spaghetti tipo una frittata di spaghetti probabilmente una frittata di spaghetti con gli occhi fa come ti pare sì la cosa importante è non rivenere tutto come al solito hurray un'ultima cosa abbiamo bisogno di un leader yeah perché perché durante una battaglia a secondi dove decidiamo di combattere sempre in malino in retroguardi il leader può dare diversi tipi di bonus e se voglio stare nel mezzo nessun bonus per chi sta in mezzo siccome sono il più carismatico del nostro team da leader aumenterò mana e spirito la solita checca io che sono il più forte fisicamente potenzierò salute e forza che branco di lumache io aumenterò evasione e velocità ragazzi spero che queste non sono tutte statistiche che già mi ci sto a perdere e tu mike mike vuole fare il pirata con l'enorme dio vendicativo a forma di spaghetti quindi vediamo non lo so dai cazzo deciditi penso che la grinta sia la qualità più importante in un avventuriero quindi credo che potenzierò la resistenza agli effetti negativi e il colpo critico cosa? dai che hai capito resistenza all'avvelenamento confusione bruciature e così via e la possibilità di raddoppiare il danno con un colpo critico completamente inutile sarei tu quell'inutile non aspettatevi il mio aiuto quando il malefico mostro iettatore vi colpirà quindi abbiamo un dio spaghetto un malefico mostro iettatore che ci colpisce forza scegliamo un leader quindi ci suggerisce andare su tattica e premia per selezionare os x ed x per cambiare posizione beh al momento che voglio prendere come leader qua vediamo Francis dai con invasione velocità ah vedete aumentano le caratteristiche in base a come lo spostiamo però perdono valori gli altri ah lo mettiamo davanti dietro al centro quindi questo vuole fare il ninja serve la velocità lui vuole fare il pirata lo lasciamo al centro senza bonus visto che non voleva bonus nigel ah no aspetta questo è il mago quindi lo mettiamo dietro cacchio non si capisce niente questo è il pirata e lo mettiamo al centro però sta si muove tutto qui si muove aspetta non ci sto capendo più niente aiuto ma com'è sta cosa si muove tutto allora pirata eh pirata lasciamo al centro mago ma ma perché è diventato ma mi fa i giochini mi fa ok perfetto si deve cliccare ecco perché non funzionava il mago lo mettiamo dietro per l'evasione e vadi il guerriero lo mettiamo davanti per la velocità poi la forza hp-10 ma se viene il hp al guerriero però lasciamolo al centro il mago più 10 hp ci sta bene il ninja forza 2 sta bene così ok quindi possiamo andare indietro guardate 0 lira in basso ok ragazzi io sono il leader seguite la mia guida e nessuno sarà lasciato indietro ok penso che abbiamo finito ma prenderlo su questi manuali nel caso ci servisse un ripasso perfetto riprendiamo e li portiamo con noi premi B per aprire il menu per annullare ok infatti si apre il menu e lo richiudiamo direttamente bene ragazzi non voglio fare un video troppo lungo per questa prima puntata fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco di questo video già si intuisce che può offrire parecchi spunti di riflessione sulla vita sulla nostra vita degli anni 80 e degli anni 90 sembra godere di una buona satira iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle uscite di nuovi video e mettete un bel mi piace ciao a tutti dal vostro il bagatta